Dopo la proiezione in anteprima alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia in una sana del Senato della Repubblica, Redland Rosso Istria, dedicato alla tragedia delle foibe, approda anche al Cinemateatro Massimo di Pescara. Presentando il film di Maximiliano Ernando Bruno, il presidente dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, Mario Di Racca, insieme al capogruppo di Forza Italia in regione Lorenzo Sospiri, all'esponente di Fratelli d'Italia Marco Forconi, ha detto che si tratta di una pellicola che coraggiosamente parla del dolore del popolo istriano, Veneto e Dalmata e della tragedia delle foibe, della storia di una ragazza divenuta simbolo e martire di un eccidio, Norma Cossetto, violentata, violata, vittima incolpevole di un dramma, di una pagina di storia tragica che i testi ufficiali hanno tentato di cancellare, di negare per anni, e che finalmente sta riemergendo per consentire a tutti di conoscere vicende umane che non meritano il dimenticatoio. Il capogruppo Sospiri afferma che il film racconta il dramma degli italiani nelle terre d'Oriente nella parte finale del conflitto, dopo l'8 settembre del 1943, una pagina di storia patria taciuta per quasi 70 anni e che soltanto negli ultimi anni, grazie al lavoro importante di divulgazione portato avanti dall'Associazione e finalmente rientrata a pieno titolo nel dibattito storico-politico, una pagina di storia tragica che va ricordata, va conosciuta per fare in modo che mai più si ripeta. Pertanto il film sarà proiettato per tre giorni, dal 15 al 17 dicembre, al Cinema Teatro Massimo di Pescara.